Medaglia presidenziale della libertà. Hayley Silent Medal of Honor. Poi onoreficenza straniere. Dama di Gran Croce del Grand Ordine della Regina Gelena o Jelena. Non lo so, Croazia. Dama di Gran Croce dell'Ordine del Fedele Servizio Romania. Dama di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica di Polonia. Medaglia presidenziale della libertà. Abbiamo ascoltato che un po' di milioni di bambini ha morti. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice. But the price, we think the price is worth it. La Albright è morta di cancro a Washington il 23 marzo 2022 all'età di 84 anni. E chi cazzo se ne fotte? Allora è stata segretario degli Stati Uniti d'America. Mandato cos'era? 97-2001 da quel bontempone di Clinton. Una persona veramente amorevole. Che aveva a cuore l'amore, la libertà dei popoli, la giustizia e l'uguaglianza. E, che dire, sulla guerra in Ucrania non abbiamo niente da dire nel senso di portare informazioni chissà cosa sta accadendo, chissà cosa sta succedendo. O meglio, le informazioni si possono portare che poi sono sotto al naso di tutti. Basta solamente avere la volontà di verità, basta avere solamente un pizzico di volontà e si possono... non è neanche più questione di unire i puntini. È lì, è evidente. A me interessa di più il lato umano, ma profondamente umano. In che senso? Perché se la preoccupazione, ad esempio, della controinformazione a cui io non appartengo fosse quella di dire bisogna informare perché la gente ne sia conscia, significa che non si è capito un cazzo di quale sia il problema. Perché il problema, la radice del problema, è il cuore degli uomini o il non cuore degli uomini. È la volontà di verità negli uomini o la non volontà di verità. Si possono portare mille informazioni e questo è stato l'errore fondamentale da dieci anni, anzi mettiamola meglio, da vent'anni fa venendo diciamo in su per dieci anni ancora. Quindi, non lo so, è un discorso che ha avuto una finestra temporale in cui la controinformazione poteva quantomeno dare dei segnali per indirizzare una certa voglia di volontà di verità. Ma non lo ha voluto fare e si continua a ostinare pensando che portare indizi di una verità o portare prove serva a illuminare qualcuno di qualsiasi argomento si parli. Perché la capacità dell'uomo di prendere atto di una verità che è, diciamo così adesso, molto per comodità scomoda, non dipende dal fatto che lui sappia o meno come stanno le cose. Dipende da quanto lui sia disposto o meno a mettere in discussione il suo modello esistenziale. Questo è il punto. Ecco perché prima di fare la controinformazione si doveva fare la contropropaganda. Adesso che hanno iniziato a capire perché sono più ottusi di un angolo ottuso hanno iniziato a fare la contropropaganda è troppo tardi perché anche adesso la contropropaganda non serve più a nulla. Quattro C'è stato un tanque che un tanque che usava 3 giorni, l'instituzione SAO, un tanque che usava un tanque, un tanque che usava in casa e strigiava. Ci sono stati, come si chiamano, non si chiamano, non si chiamano. Non si chiamano, non si chiamano, non si chiamano. Ci sono stati ideologi, un'esplosione, un'esplosione, un'esplosione. il concetto idiota della verità non ce l'ha in tasca nessuno questo concetto idiota dice precisamente qual è il livello di idiozia raggiunto queste questi aforismi starebbero bene in bocca a pierino nei film di pierino altrimenti altrimenti non hanno senso e qualche volta ho discusso discusso per dare un indizio e comprendere come non serve avere una verità in tasca ma basta solamente comprendere cosa non può essere verità avremmo già fatto un balzo quantico ma neanche questo a dire cosa che la nostra madeleine albright ritiene che la morte di 500 mila bambini iracheni è valsa la pena per le armi di distruzione di massa che non si sono trovate che la morte di 500 mila bambini quella volta avrebbe dovuto fare alzare le antenne di tutto e di tutti del mondo giornalistico del del sistema mediatico del mainstream del non mainstream della controinformazione no invece no perché se non c'è l'autorità di turno che l'uomo tuttora considera una divinità così come considera idiotamente la scienza una qualche forma di divinità se non arriva l'imbeccata oppure proprio l'imboccata se non arriva il giocattolino con cui ti dicono che tu devi giocare e dire che questo è giusto e questo è sbagliato non riesci a mettere insieme due neuroni e automaticamente entri felicemente nel mondo dei bimbo minchi medaglia presidenziale della libertà non riesco neanche a ripeterlo di nuovo lasciamo stare e quindi ecco cosa cosa significa ecco cosa significa assistere a una guerra che al di là della guerra che poi non puoi neanche chiamarla guerra è un è un gioco che viene spostato fuori dal baricentro della realtà e fuori da questa realtà sta arrivando l'estate quindi ecco che allungano lasciano un po di corda al guinzaglio perché adesso siamo troppo sotto pressione arriva il bel tempo e non possiamo essere troppo impauriti troppo terrorizzate adesso ci fanno prendere un pochettino d'aria allora d'aria ai carcerati anzi pardon chiedo scusa chiedo scusa ai carcerati agli schiavi e quindi quando arriverà di nuovo si avvicinerà l'autunno l'inverno saranno pronte le prossime sorprese perché il problema è questo la guerra in ucrania continuo continuiamo a dire questa cosa per comodità con la terminologia farà sì che sia gli alibi e sia le scuse per attuare sempre leggi liberticide siano appunto attuabili con più facilità perché questo è il discorso e mentre la russia se la gode alla grande perché non è vero un cazzo che sanzioni non sanzioni a loro l'economia vola dieci volte di più ecco che noi grazie a questo e alla cosiddetta pandemia siamo sempre di più e soprattutto l'italia ricordiamolo noi siamo il paese destinato in in assoluto è il paese per eccellenza che deve fare uno da spartiacco ed è quello destinato ad essere ingoiato da questo meccanismo appena potete andatevene via dall'italia italia nome un nome ormai che non ha più senso andatevene via e il il discorso è questo è questo che dovrebbe ricordarci ma nulla da fare se non viene il padrone a dirti che dovresti preoccuparti per questo allora tu non ti preoccupi un altro segnale che mi è piaciuto toccare interessante da questo articolo dal comune di fidenza dove il comune di fidenza introduce la patente appunti per le case popolari bel segnaletto e bel segnalino bel segnalibro la patente il consiglio comunale di fidenza ha deliberato il nuovo regolamento unico comunale in materia della residenza vabbè tutto il cazzo che si vuole il documento introduce senza dell'articolo titolo parte è un sistema appunti per chi abita nelle case popolari che ricordando il sistema dei crediti sociali cinesi attribuisce a ogni nucleo familiare la carta dell'assegnatario porta e come hanno scritto qua vabbè hanno sbagliato un punteggio iniziale 50 punti attraverso il comportamento residenti il credito può lievitare diminuire nel caso in cui si esaurissero i punti a disposizione gli assegnatari sarebbero costretti a lasciare l'alloggio quindi siamo siamo veramente il contentino lo zuccherino se fai il bravo papati dalla carezza se no ti mette all'angolino con le orecchie d'asino quelle se le meriterebbero e comunque obbedisci altrimenti punizione stanghettata sulle mani ritorniamo di nuovo al discorso della dignità di cosa dovrebbe far comprendere qual è la questione di cui all'inizio cioè della propaganda e di come ci si indigna non ci si indigna a seconda di come vogliono che questo meccanismo inizi in una in un qualsiasi modello civile di civiltà ma vera veramente ma veramente al minimo sindacale a una notizia del genere qualsiasi uomo qualsiasi uomo detto con la u minuscola sarebbe salito su dal dal sindaco avrebbe tirato fuori l'attrezzo usato per pisciare gli avrebbe pisciato sulla scrivania ma come inizio è come inizio e con gli applausi e con il beneplacito di tutta la popolazione siamo disposti a qualsiasi livello di degrado sarà sempre di più scusabile e giustificabile appunto attraverso un flipper che di rimpallo tra il terrore della guerra tra quello che non ci sarà tra la possibilità che qualche nuovo virus si affacci che non ci sono i soldi per questo e sempre per il nostro bene sempre per il nostro bene ed ecco che si aumentano lo stipendio ma vendersi l'anima cosa significa la speculazione è il gioco di una vita che soltanto dalla materialità può condurre a un tipo di serenità a un tipo di maturità a un tipo di dignità è un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente ad invidiare la manipolazione fatta da himmler o da hitler li manipola trasformandolo nella coscienza cioè nel modo peggiore istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi cosa si deve comprendere del colpo di stato in ucrania fatto da qualcuno di là dell'oceano cosa si deve comprendere se quando sai che a uccidere i civili a violentare questa gente è tutto è tranne ciò che noi sentiamo dire dalla divinità che scende dal cielo le enormi masse degli italiani invece sono cadute in pieno in questo meccanismo non c'è la 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 Grazie a tutti.